Sto andando verso Carrara, si vuota domenica e chi mi ha visto nel corso degli anni tante volte a Carrara sa che ho coltivato con quella città un rapporto intenso di conoscenza e di amicizia, soprattutto vedendo come la bellezza della città, penso artisti grandi o anche dimenticati come Cibei e penso a Carrara come luogo di Michelangelo e della grande scultura che viene dopo di lui. Lì la bellezza convive con il lavoro. Ecco, io credo che un sindaco per Carrara debba essere una persona che ha il piacere di essere di Carrara, sente la sua città e vuole che sia sentita anche fuori. Questi requisiti credo li abbia il mio vecchio amico Simone Caffas, che è stato presidente dell'Accademia quando io fui presidente dell'Accademia di Urbino e persona di concretezza e di passione. Il centro-destra è andato alle elezioni diviso, una scelta che evidentemente è stata dettata da antagonismi e non è stata comunque premiata premiata per una parte. Ecco, quella parte può trovare oggi in Caffas il suo riferimento. Io lo credo, non so quanto le mie parole potranno essere utili alla sua sperabile vittoria, ma glielo auguro e sono pronto a tornare a Carrara per chi mi ascolta in qualunque momento ci sia bisogno di me. Auguri a tutti i cittadini di Carrara e buona fortuna per le elezioni di domenica 26. Grazie per la visione!